Volevo ovviamente augurare un sereno Natale e un felice 2013 a tutti i cittadini di Iesi. Come dall'inizio vorrei allargare gli auguri non solo al territorio del nostro comune ma a tutti gli abitanti della Vallesina perché continuo a dire e sono convinto di questo che questo è un territorio che gli Iesi deve pensare in maniera allargata e dunque anche nell'occasione degli auguri oltre agli Iesini faccio gli auguri a tutti gli abitanti della Vallesina. Auguri a Vallesina TV e a tutti i suoi ascoltatori. Tanti auguri a tutti noi, a tutti i cittadini di Iesi sperando che possano passare un Natale sereno, qualche giorno di festa, di serenità. Noi abbiamo cercato per quello che ci è possibile di contribuire organizzando qualcosa. Fateci sapere se vi è piaciuto in modo che lo si possa migliorare per l'anno prossimo. Grazie e tanti auguri a tutti di buon Natale e buon anno. Tanti auguri.